Come voliamo ragazzi? Super simbat devi vedere una diante così ti raccomando poi un minuto massimo di femminile se no poi quello si incazza qua contro un minuto, lo sto dicendo così l'ho capito anche tu ma stai parlando di Enzo de Natale? Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspetta, fammelo prendere. Mizzica, ma sì, proprio... Ah, te lo coccio. Io vi spendo. Dovevi uscire da là. L'abbiamo, dai, l'assorto? Sì. E andiamo là.